Mi sono inventato questo personaggio, che è un personaggio che è uscito dal carcere, ossessionato dalla verità, ha cominciato a lavorare per gli avvocati. Quando gli avvocati hanno bisogno di un ponte con la criminalità, chiamano l'alligatore, che è un ex cantante di blues, e lui usa le sue conoscenze nel mondo della criminalità per scoprire la verità, rispetto ad alcuni casi. Ecco, ma il fatto che sia un ponte verso la criminalità viene da pensare che sia un po' al confine, no? È regolare o irregolare questo buratti? È irregolare, è profondamente irregolare. E magari per la legalità e poi fa il personaggio irregolare? Sì, certo. La letteratura noire è una letteratura per la legalità, però questo personaggio è un personaggio che non sta né da una parte né dall'altra. Sta all'esterno e quindi lui usa le investigazioni insieme ai suoi amici per appunto osservare la società, per comprendere il mondo e si caccia sempre nei guai. E alla fine, attraverso queste investigazioni, lui riesce a raccontare un luogo e un tempo.